Cryptoverzum. Stiamo sottoscrivendo una nuova ondata di investimenti. Tutto quello che c'è da sapere sulle criptovalute e sulla tecnologia che le sostiene. Nuovi strumenti, nuove tecnologie e nuove applicazioni commerciali. Il nostro partner professionale è la piattaforma di trading di Cryptovalute Mozaik. Benvenuti a tutti, Anna Tottandor al microfono e anche oggi seduto di fronte a me c'è Attila Vidakovic, fondatore di Mozaik Alpha. Ciao Attila. Ciao Anna, benvenuta tra gli ascoltatori. Mozaik Alpha è la piattaforma di trading di criptovalute e nella puntata di oggi parleremo dei panieri di questa piattaforma. Panieri in cui gli utenti possono scegliere di mettere il proprio denaro. È un modo per riassumere il tutto in una frase? È così che si compone la piattaforma? Sì, la piattaforma stessa dovrebbe essere vista come uno spazio online per gli utenti che vogliono acquistare asset criptografici e per i trader che vogliono costruire portafogli criptografici professionali. In base a diversi aspetti, questi trader possono creare diversi panieri, possono avere diverse politiche di investimento, possono pianificare per diversi orizzonti temporali. E la cosa buona è che non c'è un paniere di una sola società o non c'è un paniere di un solo trader, ma ci sono molti approcci, molti tipi, in modo che quando il tempo è passato e ci saranno molti trader, allora davvero qualsiasi paniere è concepibile con qualsiasi sistema di regole. Per quanto riguarda i panieri attuali, posso parlare di quale sia la politica di investimento e su cosa si basino i diversi progetti. Sì, devo aggiungere che l'interfaccia è stata lanciata una o due settimane fa, due cestini sono ora operativi. Due al momento e questa settimana lanceremo un basket per il Circle Team, di cui siamo molto orgogliosi perché sono quelli che non so come abbiamo avvicinato, ma ci conoscevamo all'interno della comunità, ma volevano lanciare un basket qui. E i bank sono probabilmente i più rispettati e stimati cripto trader ungheresi. Insegnano cripto trading all'università di Obuta, quindi è un team molto professionale. Ad esempio, entrano nello spazio delle criptovalute con una strategia molto conservativa, portano una soluzione di accumulo e il denaro non viene investito subito in criptovalute, ma solo una piccolissima parte del denaro viene convertita in grandi criptovalute nei momenti in cui è giustificato acquistarle. Ma in realtà sono loro a parlarne, perché è il loro paniere. I due panieri disponibili al momento sono le criptovalute blu, provenienti dalle blue chip, quindi le più grandi, le grandi e comprovate criptovalute. È abbastanza logico avere un cestino di questo tipo. Ma non si può dire che sia un indice, perché la composizione cambia in casi giustificati e ci sono revisioni settimanali, quindi c'è una lunga lista di circa 40-50 progetti che possono essere inclusi in questo paniere. E non è previsto che ci siano più di 10 progetti allo stesso tempo, ma ci sono novità, ci sono fattori fondamentali che portano cambiamenti nel mercato. In questi momenti... Come se fosse nella top 10? Non è detto che debbano essere sempre 10. Beh, se un progetto giustifica l'inclusione perché porta una grande innovazione da parte della sua comunità e per qualche motivo mostra un qualche tipo di indicatore che vale la pena, diciamo, di ponderarlo o addirittura di includerlo, allora può essere incluso. L'altro caso è che se un progetto è stato appena lanciato e ha avuto un'impennata irragionevole, cosa che di solito accade con le criptovalute, allora lo ripeseremo perché i guadagni ottenuti dopo un'impennata irragionevole vengono tipicamente corretti. L'obiettivo sarebbe quello di trarre vantaggio da questa impennata e quindi il valore della correzione dovrebbe essere trasferito a un altro progetto forte e valido. E l'altro cestino? L'altro paniere è il paniere sottovalutato, in cui è possibile scegliere tra una gamma più ampia di progetti. Questo è il paniere sottovalutato, in cui non possono essere inclusi nemmeno i progetti nuovi di Zecca. Quindi si tratta anche di progetti che stanno già funzionando ed è chiaro che il team è serio. Questi sono inclusi ed è per questo che parlerò di quali sono gli aspetti che, se guardiamo al valore di questi aspetti rispetto agli attuali tassi di mercato, possono essere considerati sottovalutati. E poi vi darò uno o due aspetti. Ogni progetto è diverso e ogni progetto ha una diversa ponderazione di questi fattori. Ma è molto importante lo scopo del progetto, cosa c'è dietro la criptovaluta. Ad esempio, quali sono i concorrenti sul mercato per l'obiettivo del progetto e qual è il team che lo sostiene. È anche molto interessante, e lo si può osservare, che un team che lavora insieme da molto tempo e che ha portato grandi cose sul tavolo è molto più prezioso di, ad esempio, un team che non ha mai lavorato insieme prima, ma individualmente, diciamo, sono nomi molto buoni. L'esperienza insegna che un team che lavora bene insieme è una garanzia di successo molto maggiore rispetto ai buoni nomi individuali. È molto importante quanto siano attivi gli sviluppatori. Per questo motivo cerchiamo sempre con molta attenzione se riusciamo a trovare informazioni in merito, ma in termini di panieri, se non riusciamo a trovare informazioni in merito, allora non entrano davvero. Quanto sono attivi gli sviluppatori, quanti di loro lavorano, che tipo di dinamiche hanno, come viene presentato il codice, come comunicano, è un ottimo segno. Uno degli indicatori che personalmente preferisco è l'aumento dell'attività su un progetto e su un progetto in corso da un po' di tempo. Quindi, se avete un progetto in corso da due o tre anni e vedete che avete, per esempio, un team di sviluppo di 20 o 30 persone, iniziate a crescere e vedete che è già arrivato a 100 persone in sei mesi e viene scritto molto codice nuovo, è quasi prevedibile che dopo un fenomeno del genere, da 1 a 6 o 12 mesi, diciamo, rispetto al prezzo medio delle criptovalute, quindi a quanto si è mosso il resto, questi progetti tendano a ottenere buoni risultati. Perché ciò significa che se la base di sviluppatori è cresciuta fino a quel numero, allora c'è molta fiducia nel progetto e se il codice sta crescendo a quel ritmo, avrà un impatto funzionale. Quindi c'è un'innovazione in corso e un problema che viene risolto, che probabilmente sarà molto utile. E poi questi due, è il loro cestino? Sì, è il nostro paniere, ma per il resto mettiamo insieme e gestiamo questi panieri al meglio delle nostre capacità. Ma l'obiettivo non è avviare i panieri, l'obiettivo è far venire qui i migliori trader del mondo e il nostro lavoro è trovare i migliori trader del mondo e mostrare loro quali sono le opportunità. Ma abbiamo dovuto iniziare e abbiamo una storia in questo mercato, quindi pensiamo di poter analizzare questi progetti abbastanza bene, ma qui prendiamo in considerazione solo i fattori fondamentali, quindi non c'è analisi tecnica in questi panieri, assolutamente nessun day trading di questo tipo. Ma potremmo parlarne a lungo di quanto valga la pena di avviare un paniere di day trading. Non è detto che il mondo decentralizzato sia in grado di soddisfare il day trading in ogni caso, ma questo migliorerà, quindi tra due o tre anni saremo pieni di panieri day trade, ma i panieri possono essere creati con qualsiasi politica di investimento. Questi due panieri funzionano così. Quando si parla di trading di criptovalute si usa spesso il termine trustless, senza fiducia, che significa che non ci si deve fidare di nessuno, ma devo comunque fidarmi del commerciante di quel paniere per guadagnare più soldi. Sì, beh, abbiamo cercato di progettare le regole in modo da rendere il più logico possibile il rendimento del trader. Prima di tutto non è possibile avviare un paniere in questo modo. È tecnologicamente codificato in modo tale che la chiave con cui si controlla il commercio nel paniere deve essere utilizzata per depositare una quantità di denaro non trascurabile, quindi il primo depositante è sempre il gestore del paniere e deve depositare il proprio denaro. E con il suo denaro non può fare altro che quello dei clienti, quindi a questo livello ha un interesse elementare e guadagna denaro avviando un paniere solo se questo ha successo. In caso contrario non si può escludere che qualcuno faccia cattivo trading, quindi c'è un rischio. E non è escluso che il bitcoin possa scendere del 20% in un giorno o del 30%? In ogni caso abbiamo lanciato i cestini e poche ore dopo il mercato ha iniziato a crollare con ripercussioni su tutte le attrezzature. Ma va bene così, perché almeno tutti possono vedere che i prezzi possono scendere. Sì, quindi vale sempre la pena di osservare la performance di un paniere in un determinato segmento, nel segmento secondo la politica di investimento e come si è comportato rispetto agli indici. Quindi se l'intero mercato ha perso e ci sono periodi come questo, diciamo l'80%, allora è un ottimo paniere che ha perso solo il 40%, ma sarebbe difficile guadagnare con un paniere tradizionale in un mercato orso come quello in cui ci troviamo. Altrimenti tecnicamente c'è la possibilità di avviare panieri short rolling. Di certo non ne lanceremo uno, non consiglierei alla gente di usarlo così tanto perché è un rischio pazzesco, ma chissà, forse ci sarà una richiesta e ci saranno trader che avvieranno un paniere di questo tipo. Non è raro che su CryptoPoly compaia un nuovo giocatore, un gettone, una moneta fresca, con un logo davvero carino, eccetera, eccetera. State prestando attenzione o avete intenzione di prestare attenzione a queste piccole storie uniche? Dobbiamo farlo, soprattutto dall'altra parte, quindi abbiamo dovuto pensarci bene e ci siamo fatti aiutare da molti. Abbiamo parlato con hacker, con due noti hacker di fama internazionale, su come aggirare il sistema, su come risolvere i problemi. Penso che la maggior parte delle ore siano state spese in questi brainstorming e nella progettazione e dobbiamo escludere che un trader, per esempio, metta nel cestino i token che ha emesso lui stesso, quindi non può farlo. C'è una whitelist e solo i token che sono nella whitelist possono essere inseriti. Non appena un progetto viene inserito nella whitelist devono essere verificate molte cose. Il contratto del token viene sempre controllato dal team, quindi se c'è qualche trucco nel contratto semplicemente non può essere inserito. Questo non significa che alcuni di questi token ingannevoli non possano volare perché ne abbiamo visti di esempi, ma è un rischio troppo grande, quindi li filtriamo. Credo che con questo sistema la maggior parte dei progetti rischiosi e, diciamo, truffaldini o fraudolenti possano essere filtrati, forse quasi tutti, e le perdite dovute a queste opportunità sono di gran lunga inferiori, ma ovviamente ce ne sono alcune, quindi potrei citare una o due storie del passato che non dovrebbero essere qui, ma per il resto è stato un grande successo. C'è un esempio dell'ultima settimana o due che ha attirato la vostra attenzione su un giocatore minore. Un esempio positivo? Forse la cosa più interessante per me personalmente sono due, ma togliamone una, perché Ton, non Tron, ma il token Ton, la rete Ton, è dietro di essa, che penso abbia una storia molto eccitante, ma non è la storia che l'ha fatta entrare, ma quello che è successo da allora. Nel momento in cui Telegram ha deciso di apparire su CryptoPoly, ha raccolto una notevole quantità di denaro e lo ha speso per sviluppare una nuova blockchain che è abbastanza innovativa, ben pensata da un punto di vista tecnologico, ben sviluppata, ben documentata, il che è molto importante. Ma non è questa la parte così interessante, ma il team di Telegram è stato avvicinato in qualche modo, in qualche modo, credo piuttosto ostile, dal governo russo e sono stati nel team e sono stati nei leader, quindi ci sono state alcune situazioni piuttosto eccitanti, mi è stato detto, ma hanno detto che il team di Telegram è di proprietà della pietra o i leader, che non la rete Ton, nessuno la porterà via, quindi prenderemo tutte le chiavi e getteremo l'intero sistema nella comunità critografica e non avremo più nulla a che fare con esso, qualsiasi cosa accada, lasceremo che sia il mondo a crescere o meno, questo bambino. All'epoca uno o due sviluppatori noti iniziarono ad avvicinarsi a noi, ma ci volle, non saprei dire con esattezza, forse un anno e mezzo o due anni dall'evento e all'improvviso ci accorgemmo o il mondo si accorse che c'erano già quasi 200 sviluppatori che lavoravano al progetto che è in esecuzione, è utilizzabile e svolge la sua funzione ma è uno sviluppo continuo, una blockchain non è mai finita, deve essere continuamente migliorata. Ci stanno lavorando, c'è una comunità molto molto forte di fan che la seguono quotidianamente, comunicano su di essa, ne vediamo sempre di più apparire su tutti i canali di comunicazione della criptovaluta e sono tutti molto molto volontari, possiedono tutti i token tone, credono che la quotazione salirà e lo fanno. Il progetto è tecnologicamente valido, quindi è sicuramente uno dei progetti validi. C'è una comunità di sviluppatori molto seria che si sta gonfiando continuamente con nomi molto validi e stanno facendo un lavoro molto professionale comunicando molto bene gli sviluppi. La crescita è costante e si vede che la base dei fan è in aumento, quindi abbiamo deciso che valeva la pena inserirlo. Vedremo cosa ci porterà il futuro. Non è una garanzia che sarà un progetto di successo, ma è sicuramente un ottimo segno ed è per questo che il progetto tone underrated è stato messo nella scorta segreta. E parleremo anche dell'altro vostro progetto preferito, ma non oggi, perché è tutto quello che possiamo inserire. Ho parlato con Attila Vidakovic, fondatore di Mozaic Alpha. Questa è Anna Andortot. Attila, grazie per essere qui. Grazie per l'attenzione. Ogni lunedì e giovedì nel monitor mattutino. Quello che c'è da sapere sulle criptovalute e sulla tecnologia che le sostiene. In collaborazione con la piattaforma di trading di criptovalute Mozaic. Unitevi a noi la prossima volta.